Bene, vediamo un altro libro, questa volta si chiama Trend Following ed è di Michael Cowell. Questo libro c'è utile per cosa? C'è utile per studiare un po' la storia del trend following, per studiare i personaggi chiave che hanno reso grande questo approccio nel mondo del trading. Michael Cowell riporta nel titolo questa cosa, dice impara a sviluppare milioni utilizzando le tendenze realistiche e ribassiste del mercato. Allora non è che il libro ci insegna subito a realizzare milioni, no, ma ci insegna, ci riporta la storia dei grandi trader che hanno effettivamente prodotto milioni con questa attività. E quindi andiamo a studiare un attimo dei personaggi chiave che diventano dei punti di riferimento per un'attività di ricerca più ampia, per capire come questi grandi trader hanno lavorato e quali possono essere le idee da poter prendere per integrare nel nostro trading. O almeno io ho utilizzato il libro a questo scopo, in questo modo. E quindi mi sono concentrato maggiormente sul capitolo 2 e ho trovato all'epoca un po' di nomi. Quindi David Harding, Bill Loon, John Henry, Ed Seicota, che fra tutti i trader è quello che ha un approccio che mi piace di più, quello che spiega il suo approccio a basso rischio, il suo approccio scientifico sui dati, insomma. E' un bel esempio, insomma. Io ho riportato nel blog un episodio del podcast dove Michael Cowell intervista Ed Seicota. Ho riportato questo materiale in lingua italiana, l'ho tradotto per me, perché a me faceva piacere disporre di questo materiale in italiano. E poi ho pensato di pubblicare tutto quanto nel blog. Infatti trovate nel blog una serie di episodi del podcast di Michael Cowell. Pensate a più di mille episodi, quindi insomma ho tradotto quelli che mi sembravano più interessanti per la mia attività. E trovate tutto in italiano nel blog. Vi metto nelle note del video questi episodi, così se volete potete svolgere la stessa attività di ricerca che ho svolto io, per conoscere meglio il settore, va bene? E quindi c'è Ed Seicota, Jerry Parker, un altro grande trader del settore. Poi abbiamo Salen Abraham e Richard Dennis. Richard Dennis è stato il più grande probabilmente della storia recente, che appunto poi ha avviato il progetto dei Turtle Trader. Jerry Parker faceva parte appunto di questo gruppo, anche Ed Seicota. E quindi è molto interessante studiare l'approccio al trading di questi grandi trader. Per esempio Richard Dennis aveva un approccio al trading con un rischio molto elevato. Era un genio del settore, cioè è un genio del settore perché so che è ancora in attività. Lo so perché attraverso gli episodi del podcast di Michael Cowell e anche di altri, Richard Dennis è stato intervistato più volte, ho riportato nel blog anche le interviste di altri, diciamo, gli altri utenti che hanno questi podcast di trading e in lingua inglese ce ne sono parecchi. E quindi a più riprese si trovano le interviste a Richard Dennis. E quindi so che è ancora in attività, insomma, va bene? Quindi lui è stato un genio del settore che non solo è in grado di sfruttare le tendenze, ma è in grado di sfruttarle con un rischio elevato. Ecco, è una cosa che è molto difficile da replicare. Quindi vediamo cosa ha fatto lui, cerchiamo di trovare delle idee interessanti per integrarle nel nostro trading a basso rischio, sul quale noi possiamo avere un controllo. Perché non siamo tutti geni come lui, insomma, va bene? Ok. Poi nei libri ci sono tutta una serie di altri approfondimenti interessanti che io, diciamo, ho letto un po' distrattamente così, ma mi sono concentrato maggiormente sul capitolo 2, ok? Anche il lavoro di Richard Donichan, che praticamente ha ispirato lo stesso Richard Dennis, è molto importante. Jess Livermore e Dickinson Watts, che conosco di meno, insomma, sono comunque personaggi chiave del settore. Qui vedete c'è altro materiale che lui pubblica, riporta, ed è comunque interessante come approfondimento. Io mi sono dedicato un po' meno, diciamo, a leggere, cioè, l'ho letta, ma non è che mi ricordo granché. Mentre invece il capitolo 2 è stato per me un capitolo centrale, perché mi servivano dei nomi per svolgere un'attività di ricerca. Ho trovato un po' di informazioni nel libro, una base che poi mi è servita per ulteriori ricerche. Vi riporto tutto quanto, anche il materiale dei podcast tradotto in italiano, nelle note di questo video, in modo che possiate anche voi dare un'occhiata a queste idee di questi grandi trader, magari trovate anche voi qualcosa di interessante. Va bene? Buon lavoro e a presto.